Le mie aspettative erano di parlare della spiaggia greca ma la mia camionetta fa abbastanza cagare e quindi ho deciso che ne parlerò quando la vedrò. Sono una persona molto socievole, tranquilla, mi voglio divertire e far divertire. Sono responsabile, serio e puntuale in tutto e per tutto. Spero di divertirmi, di viaggiare un botto e conoscere un botto di persone. A presto!